abbiamo ripato come so cattivi bro cerca di allontanarti uno mi ha fushato ma dove è andato granata in faccia hanno tenato una granata e vabbè so 3000 fra sono davvero 3000 mi è arrivato un regalozzo polipolo a propone poi mi è arrivato un regalozzo io mi sono spoilerato lo shop non portiamo rancore per la sconfitta comunque sapeva che sarebbe andata fine così perché non si può giocare la che non è proprio orario apriamo io spero siamo così dolci o mio dio no non ci credo 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 ma io ringrazio tantissimo shad mi hanno regalato la pan di zenzero la re con expert natalizia super pan di zenzero che tra l'altro prima raga il polpo mi sta parlando del piccone di pan di zenzero che è buggato manca un pezzettino di gra nella nella bolla di cristallo lì che a mio parere sembrava normalissimo io la ricordo in quella maniera andiamo avanti che bella che è anzi ti credo proprio è brutto è brutto è brutto sempre detto che è brutta questa skin shad io spero che tu abbia acquistato in una maniera super legit i tuoi v-buck eh ragazzi non acquistate i v-buck da siti esterni perché altrimenti poi piangete perché vi levano le skin vi levano i v-buck e poi in alto a destra vedete vicino ai v-buck un bel meno ma un meno gigante polipo se vogliamo fare una partita bisogna fare ciò che sto per fare quindi nego soggetti raga questo è lo shop di oggi abbiamo ancora master chief andiamo sopra spettacolare terapia della danza sciogliti un po ah li hanno droppati tutti i pan di zenzero ovviamente ovviamente maio di zenzero fammi ascoltare carino ok no ho sbagliato come hai sbagliato ma che ho sbagliato ma secondo te io sbaglio non dovrei metti metti sta renegade di nuovo dai basta con quella infuocata metti anche il backpack velocemente ci buttiamo però un piccone adeguato allora o mettiamo asce di caramella oppure da jack to kyle qualcosa del genere no non era piccozza peperita eccolo qui non dovevi non dovevi ecco ti si addice io utilizzo non dovevi e tu invece piccozza allora pippe eccola qui piperita mmm eh mi sa che ci sta più piccozza piperita eh 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 andiamo di piccozza piperita mamma mia quanto sono bella polipo sono bellissima sono bellissima io però vorrei avere un feedback da parte vostra raga cosa ne pensate del ritorno della renegade in queste vesti eccola un'altra uh eccola eccola oh stream snapperone anche se non siamo in live è lui è lui è lui laboratorio della latrina e il nostro landing e sai perché? perché c'è lui esatto esatto manca una cosa però nel video di oggi che cosa polipo? cosa manca? una win oltre a quello manca il bene ragazzi io sono Martix bentornati su un nuovissimo video mattutino eh si stavamo registrando un videozzo per voi prima oh oh che è tutta sta gente? mi hanno stilato ma guarda come ha guerrito lui no vabbè voglio no 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 qui devo abbassare tutti i settaggi però perché vado proprio di cattiveria no merci proprio eh aspetta che c'è c'è tanta gente qua da me mi hanno già son morto son morto son morto son morto approvissimo approvo 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 è un buon segno è un buon segno è un buon segno ti seguiamo maestro è lui è lui è lui raga è il capo spartan lui è quello che ci killa se lo incontriamo ci facciamo killare assolutamente si gli regaliamo la vittoria dove vogliamo atterrare? dai fortezza 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 ficello scendiamo non è che c'è tanta gente si 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 questi sono cattivi ecco vedi vedo tante skinnogine vedo una ok ok noi ce ne andiamo andiamo alle conchiglie via alle conchiglie si si non so manco il nome non ci sono mai andato sono due team qui no no ma stiamo andando qua ho le conchiglie si 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 qui 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 ora mai qui dai bro sono carico si pure io ho gli occhi pieni di luminosità allora sai che cosa ho trovato? una pistola buona sai qual è il mio motto? di clappiamo easy dammi qualcosa ma ecco ti caccia ok ok dove l'hanno presa la taglia? eh ci sarà una una cosa una taglia tagliola hai degli scildini? no vieni qui la benza ok i scildini trovati arrivo 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 allora prenditi questo lancio fatti quest'altro e c'è una k alla sopra una r ti serve? madò la odio sta k qua la k è meta verde non so se sia una k o una r è una k verde ma no te la lascio la prendila no 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 l'ho presa l'ho presa per te non la voglio usare mi fa paura vabbè dai dov'è ce l'ho io ce l'ho io vai troppo come ieri boy prendiamo l'auto mi fa dai adesso ho atterrato ho atterrato ho atterrato niente ceste ho atterrato la loro attenzione hanno già rebuttato dammi queste granate andiamo senza auto via uno sul tetto tetto blu ok hai visto ho una pistola per la distanza sono due sono due una terra bravo non può buildare mannaggia io odio raga io odio questa k la odio eh la k è bruttissima infatti vittato senza scudo bianco 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 easy kill boy gg mi devo shieldare oh 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 dove 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 dovevo ah sarò io ah ma come si deve ma come si deve credevo di avere due shield e me è partita una granata una granata mi ha mi ha rotto mi ha rotto io sto quittando fornit ti giuro perché dov'è il suo amico perché tra poco mi spara flash di là e lo so non ce l'aveva un amico uuuu ragazzi ma il polipo è un faia mi ha aperto no devo andare a pescare no lui mi ha aperto mi ha aperto sto player io devo andare a pescare assolutamente vai a pescare a pescare oh un player che cosa dov'è l'ho visto mi stava guardando ma ho visto tipo una sagoma bianca nell'acqua e credevo che fosse una pozza di pesci e infatti l'ho pescato io pure infatti ti stavo per dire oh qua c'è una pozza e invece poi ho visto dove sta l'amico allora secondo me è tipo verso fuoco eccolo serve un faccio ma uh granate in faccia è troppo trash questo video è veramente troppo troppo trash mi è arrivata una granata in faccia e neppure l'ho vista oddio credevo che ci stessero sparando sono iperteso stasera non ce la faccio raga secondo me tra poco il video finisce così schermata nera boom finito facendo un torneo non ce la faccio raga non ce la faccio sai qual è questo momento della partita sai a quale combaccio è proprio a quello in cui tu farmi tranquillissimo e poi si stai farmando per l'ultimo fight ma non te ne accorgi e si affianca un team a te ovviamente di lato mai frontale mai frontale mai 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 e niente ti laser a quei due tre colpi e via ti trovi con 25 hp shieldino andato ciao no stai scherzando no questo è per sicurezza ma mi vuoi far campare sulla torre del ovvio ovvio del cacciatore queste torri mi ricordano un sacco la mappa del capitolo 1 un po' di nostalgia ti ricordi quando avevano messo tipo un sacco a velo guarda guarda che cosa c'è ancora qui no credevo che l'avessero rimosse ma quanto sei bella quanto sei bella quanto sei bella ragazzi voglio bungee jumpare sull'ultimo avversario eccoli voglio proprio bungee jumparli in testa da qui eccoli eccoli 22 a 1 25 37 oh mio dio 29 fra quello è morto un altro 25 no scendiamo bro vieni qua io mi butto di qua vado vabbè non ti preoccupare ci sono ci sono no no lo hai targettato dove è andato attenzione che ne hai uno a destra sicuramente ok lo vedo lo vedo lo vedo lo vedo 40 in testa ma c'è anche l'altro team è imploso a 87 ci sta l'altro team si ma devono venire loro in safe devono venireci incontro si si anzi io indireggerei anche un minimo ora mi arriva la snapperata in testa ragazzi la solita snapperata ora 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 crackato quale 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 vieni vieni verso di me si mi hai hittato mi shieldo mi shieldo holdalo non ti fa hittare uno è morto uno è morto di tempesta cioè è tramortito ne ho due sopra vero no mi sto solo uno no so è uno è uno si si attenzione attenzione 40 bravissimo uno di vita ti do tutto vai ti copro vai c'è no ci sono medikit però l'ho visto da qualche parte laggiù laggiù me so siamo contro uno dove stanno i medikit dobbiamo andare in safe io prendo prendo lo scudone qua allora l'ultima era quello lì di sinistra sicuramente uh cura bomba top top è da solo perché gli è morto quello della tempesta si vieni qua vai 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 no worry eh dobbiamo utilizzare le bouncer si si vai 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 ce l'hai tu non ti fa hittare non ti fa hittare senza scudo fatti uno shieldino almeno uno non la faccio due faccio due ok dov'è 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 no credevo che fosse lui quello è la nostra struttura vecchia di prima comunque non siamo in safe qui ok lo vedo a sud qua sotto dove è piazzato la bouncer prima bro ok è dietro la pietra snapperata tattica è andata male 15 49 in testa missato è qui da me si non ti preoccupare non ti preoccupare ok salito ho finito i mazze ci sono sopra si 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 è sceso aspetta che ricarico il cecchino si ecco è salito sta rompendo qua missato è sull'albero 33 43 un po' di warthog molto bravo il polipo in questo caso che si sentivano non lo so ti sentivi molto più bravo con questa skin di la verità il regalo città era un po' euforico rispetto al solito non abbiamo visto lo zenitto che cambiava con le kill è vero chissà se loro l'hanno notato invece questa cosa io non ho notato nulla vabbè ma quanti kill ho fatto abbiamo fatto due kill tre kill dai non schifo ragazzi miei e spero che questo video super trash mi è morto il polipo in faccia vi sia piaciuto noi ci becchiamo tra pochissimi live mi raccomando non mancate un saluto dal vostro Martexone e come al saluto un bel sia braduts polipo